Allora, io ci sono già da due anni e quest'estate ho deciso di frequentare l'oratorio perché tutti gli anni ci siamo divertiti e allora avevo pensato che anche quest'anno ci si poteva divertire. Tutti insieme fare tanti giochi. A me mi piace stare insieme con i miei amici, divertirmi e fare tante cose insieme. Io le direi, il laboratorio è molto bello e se ci vorresti andare ti puoi anche divertire perché poi stai in compagnia con tanti bimbi e costrui giochi e fai altre cose. Ultima domanda. Io, 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 lui, 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 perché lui deve... Allora, ad eseguo con tutte e due perché loro due sono più piccolini. Allora, vediamo un po', una scelta dovete fare. Tutte due rispondete. Fra la tecnologia, quindi cellulari, iPad, PlayStation, tutto quello che è avuto a casa o biliardino, pallone, sole, cosa scegliete? Io, biliardino, io, pallone. Perfetto, quindi la tecnologia, niente. Anche si può lasciare a casa. Zero. Ok, perfetto. Grazie. Ciao. Ciao! 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 Ciao!